Abbiamo un altro problema con le procedure, che è dopo nelle slide, ma siccome ci siamo arrivati, parliamone subito. Quando mancano me le chiedono, quando ci sono me le contestano, più o meno questo è quello che mi succede sempre. Ok, allora, la procedura, se è una mera ripetizione del manuale, non ha senso farla, perché la legge di come si usa la macchina è il manuale, punto. Se il manuale è troppo generico e quella mansione, quell'operazione non è descritta ed è particolarmente pericolosa, la procedura completa il manuale. Questo è quello che è previsto dall'81-2008. Però, e c'è sempre il però, ci sono dei costruttori poco corretti, che scrivono nel manuale che non bisogna fare un'operazione, sapendo che quell'operazione verrà fatta. E mettono quella protezione ad hoc sapendo che verrà smontata. per paracolarsi, diciamo nel modo più giusto, e scaricare la colpa su chi usa la macchina. Questa è una costante, in tutte le fabbriche, di qualsiasi dimensione, sempre c'è. E qua cosa si fa? Nel senso, se modifico la macchina, perdo il CIE, o magari, perché viene contestato di qua, di là. Se non la modifico e tolgo la protezione, sto commettendo un reato. E così via. Come si fa? Cosa fanno quelli più strutturati per gestire questa, dopo il capri spiattori ci arriviamo dopo, delle grifunzioni eccetera. Però cosa fanno i più strutturati? Allora dicono, io quell'operazione la devo fare periodicamente. Faccio un ultimo caso che mi è capitato. Io ho una flessografica dove accoppio due materiali con della colla e passa dentro delle bobine. Periodicamente, cioè ogni 20 minuti, io devo controllare se la colla è ben aderente e devo pulirle con uno straccio vicino ai rulli. Infortunio tipico, cioè se la mano mi finisce dentro, arrivo fino al braccio. Perdo il braccio. Questo è. Il costruttore mette un bel riparo fisso e dice, fermi la macchina, smonti il riparo, pulisci, rimonti il riparo e attivi la macchina. Peccato che facendo così tu produci mezz'ora sì e mezz'ora no. E quindi quella macchina non produce 6 ore al giorno al posto che 12 e così via. Con tutti i crismi, il paio dello scarto. Perché l'altra mezz'ora butta via tutta la bobina. E siccome è un mercato a basso margine, dove i fornitori sono colossi e i clienti sono colossi, lì guardano il millesimo di euro, se no chiudono. Lì non c'è pietà, anche se sono grosse le fabbriche che fanno questa produzione. Il margine che hanno è piccolissimo. Quindi non se lo possono permettere, se no zompano. E devono andare in Romania, in Polonia, in altre parti, in Marocco. Tantissimi stanno andando, c'è Stellantis che sta spingendo tutto in Marocco per esempio. E come si fa? Allora una cosa che si fa è si valuta il rischio. Si dice guarda io questa operazione la devo fare lo stesso. Quindi valuta il rischio di come si fa questa operazione. Modifico la macchina per gestire quel rischio in modo diverso. Ma sempre conforme. Cioè non è che me ne frego, lo faccio fare lo stesso. In questo caso prendo un pedale a tre posizioni. Tre posizioni vuol dire che infilo il piede e rileva che c'è il piede e non un ottone. Prima posizione la macchina va rallentato, va a velocità normale. Se schiaccio fino in fondo la macchina va in emergenza. Quindi l'operaio ha un controllo totale sul funzionamento della macchina. Lui dove mette le mani ha un controllo. Non è una fune, un pulsante di emergenza che funziona dopo che mi sono fatto male. Perché l'emergenza la fune è, contengo il danno, non è evito il danno. Se invece ho un pulsante, un jog ad azione trattenuta, un pedale ad azione trattenuta, io ho il controllo sulla macchina e posso prevenire il danno. È diversa la concezione. Quindi l'operaio si valuta il rischio, si dice guarda ti metto il pedale a tre posizioni. Dopo che ha attivato da solo la persona addestrata eccetera eccetera, che apro il riparo dove c'è un micro. Solo se va il pedale la macchina va o rallentata o a velocità costante. Lì bisogna vedere il tempo di fermata. Se si ferma subito si ci mette un po' a fermarsi. Questa cosa qua va procedurizzata e la persona va addestrata. Per dolcie quella parte di operazione il costruttore non risponde perché tu hai modificato la macchina e quindi lui è esente dalla responsabilità in quel caso lì. O gli fai causa civile e lo obblighi, ma anche lì apriti cielo, è un casino. O se no tu rispondi penalmente di quell'operazione, il costruttore è esente. Però almeno hai una valutazione del rischio, hai una procedura fatta bene e hai un addestramento fatto bene. È una cosa che sta in piedi, l'ho visto funzionare in tribunale. Non funziona sempre, ma l'ho visto funzionare perché dipende se il rischio che stai facendo vivere al tuo operaio è comprensibile o no al giudice che ti sta giudicando. Non va bene quando usano la procedura a quattro occhi, non so se l'avete mai sentita. Si chiama una procedura for ice perché in inglese fa più figo. Allora io sono l'operaio che tiene schiacciato il comando bimano così, così vedo il signore e il signore sta rischiando la vita mettendo le mani negli organi in movimento. Io ho l'azione trattenuta che se vedo il signore che si fa male lascio il pulsante e la macchina si ferma subito. È vero che è meglio che niente, ma non è conforme. Perché io potrei essere distratto? Cioè io che operatore, che ho il comando bimano, posso aver dormito male, posso aver un dopo sbronza, posso aver litigato con la moglie, posso essere preoccupata per mia figlia che va male a scuola e si comporta in modo strano, posso essere sovrapensiero in quei due secondi dove lui si fa male. Posso essere stronzo. Posso essere stronzo e lo faccio fare male apposta. Così via. Non è conforme. Si riesce sempre a fare un'operazione conforme? No. Perché ogni tanto, tipo quando devo incorsare i tessuti, io devo camminare e avere le due mani impegnate. E quindi non va bene il pedale e non va bene il jog. E cosa si fa in quei casi? Si accetta il rischio che quando si bacca una condanna, allora ci si struttura in modo tale che ci sia uno che verrà condannato. Almeno i miei clienti fanno così, si struttura in modo tale, lo mettono nel conto, lo pagano e dicono tu fare capo espiatorio.